Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Finalmente sono ritornato con la Troutaria E nel video di oggi andiamo a vedere un ospite speciale Con cui mi sfiderò nel prossimo video Dunque mi raccomando per questo video speciale e il prossimo Che uscirà tra due lunedì Mi raccomando superiamo i 100 mi piace Che sarà un mega video sfida Con un sacco di scene divertenti E un sacco di pathos Dunque mi raccomando ragazzi lasciate like Condividetevi iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti Mi raccomando guardatevi il video fino alla fine Che troverete qualche indizio Dunque non parto altro tempo e via con la sigla Ok Ok Via La giornata Troutaria Fanno arrivare Oh oggi è un po' torbietta Com'è allora tu lanci il foglio Anzi fai arrivare sul fondo E dopo recuperi Urca E' anche non è neve 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 la bollano molto spesso quindi stanno un pochetto sull'acqua no bollano e basta cioè qua stanno qua sotto stanno quelle che non mangiano in genere ce l'ho presa prima su no spoon piccolino e via la prima ecco fondale eccola qua molto molto lento ancora più lento esatto aspetta chiamami se hai bisogno di godino ecco 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 presa, presa, presa bella trota bella ok, fermo un attimo, devo mollare l'altra ho visto? sono qua la stracivista? su, su, su ok, vai è libera ok, che sono dietro di te ok, io sono dietro di te bella guadino ce lì dietro no, cazzo mi aveva mangiato mentre mi son girato che mollata recupera, recupera portatelo vicino e basta giù, canna bassa, canna bassa, canna bassa guadino si ripete oh, si toliva non 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 E' un po' addirittura punta alta così sono più sparse guarda il bottom che ho fatto lì bello però è tanto leggero preso no no lo faccio io ok cambio spunno e via no ho cambiato spunno sempre della seica eccolo qua che si è slamato e via quindi ho cambiato sono passato a 1.8 rosso e oro io ho cambiato spunno al primo lancio ho fatto il pesce mi ha dato 3 mangiate queste toccate con il muso e basta appena ho aumentato la velocità guarda daviduno sono piacevolmente soddisfatto perché stanno andando sti spunno stanno andando bene dai vediamo per fare una trota bella ce l'hai? ce l'hai? piccolina basso 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 guarda che qua sei tu il più esperto io? eh si della zona si non ci peschi più te che io è la mia prima volta dopo ti faccio vedere un parchettino snodato che non è alto eh io mi aspettavo già che mi tirassi l'idram nano l'idram ma anche quello più grande ho preso bella mangiata passami guarda 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 come sto oppla al volo attenzione freestyle sul nuovo Spoon Seike intanto io me ne vado esattamente meglio che vedi non si abbandona il max se no ti fa i pesci ma come si fa per me tutti i piedi Davide non è che hai messo il del veleno sulle esche ah non capito perché adesso non ho capito perché non sono abituato agli ami così io piccoli e guarda che razza di metto ecco perché l'hai sbagliato aspetta 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 momento asmr no vediamo magari va all'oscuro io ti copio metto uno Spoon scuro boia ma basta e Spoon Seike sono letali guarda che mi metto a video e vi fa sconti mettilo guarda che che poi Davide c'è un portacanne triplo perché è solo una canna perché faceva figo portarlo poi sembrava più più professional dai in fiera in fiera in fiera ti compri dai 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 si ce l'ho urca questa è bella questa è bella si si lo so questa è bella questa è bella questa è bella che cuore hai scudo rosso il rosso il rosso non ti comprasse questa è bella questa è bella questa è bella 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 così è una canna che deve sfrizionare vai vai pesca Davide no no non sono come quelli da che hanno la frizione totalmente aperta uh bellina questa lo Spoon non delude bellina vediamo un po' vai vai guarda che bella guarda che bella vedi il design dell'amo permette che entri essendo anche piccola e non esca anche se senza ardiglione e aspetta 5 sottotitoli Grazie per la visione!